Ciao a tutti e benvenuti al 53esimo episodio di Giochi Brutti. Lo so, è passato tantissimo tempo dall'ultimo episodio di Giochi Brutti, però come già vi ho detto, con le politiche che sta applicando nell'ultimo periodo YouTube, quindi demonetizzazione e soprattutto censura, blocchi improvvisi, limiti di età e problematiche di vario tipo, da qualche mese, se ve ne sarete accorti, ho ripreso a fare video come si facevano una volta, cioè quando ne voglia, che siano di qualità, pensi che possano piacere e soprattutto ti diverta a fare. Quindi diciamo che questo video racchiude tutte queste elementi che appunto fanno parte della vecchia maniera di fare video su YouTube e nel periodo in cui si sta vivendo adesso su YouTube conviene fare così. Ho fatto anche tantissime cose in questi ultimi mesi, tra i quali riprendere costantemente a fare le live su Twitch e oltre a quello anche il progetto Old Gen insieme a QDSS, Sabaku e Yotobi, anzi, tra una decina di giorni ci sarà anche la nostra prima live a teatro. Vi lascio qui sotto in descrizione tutto e andiamo all'episodio di oggi. Mancava da troppo tempo in questa rubrica un titolo italiano e la cosa più curiosa è che questa volta la Ludonic non c'entra niente. Girando tra gli scaffali di un GameStop romano, la mia attenzione si soffermò sui misteri di Capri 2. The Capri Connection per gli stranieri. La descrizione è quel che più mi ha convinto a spendere quei 5 euro per provarlo. Sei seduto sul tuo divano, in tv c'è una rock band che suona, tutta ad un tratto un vortice misterioso ti travolge e ti ritrovi in un universo parallelo nei panni di Nick Freud. Presto scoprirai che, attraverso una frattura spazio-temporale, le menti di molte altre persone sono finite nei corpi delle loro corrispondenti in un universo parallelo eccetera eccetera eccetera. Questa è la storia, ma tra poco la vedremo. Comunque dopo dice, più di 20 ore di gameplay con 18 ambientazioni da esplorare, ricostruite interamente con 2700 foto. Positano, Amalfi, Poggerola, Procida, Napoli e ovviamente Capri. Fai conoscenza di numerosi personaggi fantastici e reali, molti dei quali interpretano se stessi, risolvi numerosi enigmi integrati nella trama, accompagnare il tour virtuale eccetera eccetera eccetera. Comunque queste sono diciamo solo alcune anticipazioni, il video di oggi come vedete qui sotto sarà veramente lungo, quindi non attendiamo altro e andiamo a vedere com'è fatto The Capri Connection, i misteri di Capri 2. Il menu ci fa tornare indietro praticamente di 20 anni dove hai una risoluzione che non viene utilizzata probabilmente da Windows XP, infatti ci troviamo a 1024x768 con le bande nere tutt'intorno che vi rimuoverò per comodità. Ecco, abbiamo sottotitoli in russo, francese, inglese e addirittura un doppiaggio in quest'ultima lingua. Ma andiamo a vedere se è possi- Madonna santa ma è un powerpoint? Dicevo, vediamo se è possibile cambiare risoluzione. Cliccando su schermo non ci troviamo le impostazioni ma delle istruzioni. State a sentire perché è esilarante. Regolazione dello schermo, il gioco funziona con qualsiasi risoluzione non inferiore a 1024x768 e con DPI normale, uguale 96. Per esempio, con risoluzione 800x600 e o con DPI maggiore di 96 si verificano malfunzionamenti o può essere impossibile procedere. In tal caso occorre uscire dal gioco e accedere all'impostazione dello schermo mediante il pannello di controllo. La dimensione dei caratteri deve essere normale o DPI uguale 96 o 100% o minima. La risoluzione orizzontale dello schermo, almeno 2024, è quella verticale almeno 768. Nella schermata iniziale, fate attenzione che questa è esilarante, è possibile selezionare la modalità di visione schermo intero o centro schermo. A schermo intero tutte le immagini risulteranno deformate. A centro schermo possono apparire bande nere a destra, a sinistra, sopra e sotto le scene, ma le proporzioni originali sono rispettate. Attenzione, non cliccare mai sulle bande nere. Se si vogliono aumentare le dimensioni della scena senza deformare le immagini, tramite il pannello di controllo si può selezionare una risoluzione più elevata, che non allarghi le immagini. Attenzione, questa manovra può alterare la posizione delle icone del desktop. Cioè, tutto questo papiro per dirci, non siamo in grado di modificare la risoluzione del gioco, se vuoi farlo, lo fai a tuo rischio e pericolo cambiando la risoluzione del desktop e sfanculando le proporzioni del gioco. Mi salto poi tutta la spiegazione delle icone, perché alla fine saranno più o meno quelle standard di una classica avventura grafica, e clicco su Parti. Dall'inizio. Che sta succedendo? Porca miseria, non ringrazio che c'è un 45 pollici al posto del CRT adesso? Cominciamo a muoverci degli ambienti, con uno dei sistemi di movimento più scomodi di sempre. Abbiamo delle caselle da cliccare che indicano dove andare e due freccette in basso. La prima ci fa tornare una casella indietro, la seconda invece ci fa ruotare di 180 gradi. Al momento addosso abbiamo una chiave, dovrebbe essere la porta di casa, una carta di credito, con gli spiccioli disegnati sopra, e un cellulare, penso, antecedente addirittura allo StarTAC. Telefono che a quanto pare non possiamo utilizzare, ma dopo un pochino che ci saremo mossi in giro, il telefono squilla. Pronto? Sono il professor Gennaro Gravitiello, e ti chiamo dall'Universo Parallelo 1. È successo un grosso guaio. Costanzo Gravitiello, il mio corrispondente nell'Universo Parallelo 3, ha ripreso la sua attività di inventore. Nel suo ultimo esperimento mal riuscito ha provocato un disastroso contatto tra gli Universi Paralleli 1 e 3. Ne è seguito una frattura spazio-temporale, attraverso la quale le menti di migliaia di persone, prese a caso, sono state catapultate dall'Universo Parallelo 1 nei corpi di altre persone, più o meno corrispondenti nell'Universo Parallelo 3. Sono spiacente di annunciarti che anche tu, Nico Fredi, nell'Universo 1, sei stato catapultato nell'Universo 3, dove ti trovi ora, nei panni di Nick Freuds, mentre Nick Freuds, originariamente nell'Universo 3, sta qui terrorizzato accanto a me nell'Universo 1, da cui ti chiamo. Ci sentiamo al più presto per aggiornamenti. Ok. Analizziamo una cosa per volta, con molta, molta, molta calma. Tolto il fatto che la voce da un momento all'altro cambia perché sono due registrazioni diverse e lo stacco è veramente netto. Ho dovuto ascoltare due volte la telefonata per capire cosa stesse succedendo. Chi è Gennaro Gravitiello? E che vuole da noi? Perché questo Costanzo Gravitiello vorrebbe far tanto casino tra gli Universi senza alcun motivo? E soprattutto, perché dovremmo fidarci? Comunque, a fronte di questi pochissimi minuti iniziali, abbiamo già assaporato tantissime cose vintage, come quella risoluzione a 4 terzi, 1024x768, elementi e oggetti all'interno delle ambientazioni molto vecchi, praticamente sembrava una presentazione di PowerPoint, ma vorrei farvi notare una cosa che non vi ho detto all'inizio. Di che anno, secondo voi, è questo gioco? Primi 2000? Metà anni 90? Sulla copertina dice 2014, alias Dark Souls 2 Far Cry 4. Continuo a girare per casa, alla ricerca di oggetti, e trovo la moneta locale che probabilmente servirà in gioco, il caprino, come il formaggio. Da un lato, la 10.000 lire vandalizzata con suo maestà re caprillo, sul retro, la 100.000 lire in stile Vaporwave. Ok. Insieme a quella, troviamo un biglietto per il teletrasporto, con un accenno al gatto di Schrodingen, sempre del valore di 10 caprini. Usciamo di casa, e vediamo cosa ci propone l'area circostante. Un blocco stradale con un mini Stargate, e delle immagini copia e incolla sulla foto dell'incrocio. Andiamo dalla parte opposta, ma non facciamo in tempo a finire la via che ci arriva una seconda telefonata. Pronto. Il problema è più grave di quanto credessi. La frattura spazio-temporale non si è chiusa e si è creata una pericolosissima instabilità. Da un momento all'altro, interi pezzi degli universi 1 e 3 possono scomparire nel nulla o essere rimpiazzati da altri pezzi. La frattura potrebbe espandersi e gli universi paralleli 1 e 3 potrebbero finire distrutti in un nuovo Big Bang. Dobbiamo assolutamente riportare nei loro universi naturali le persone scambiate e chiudere la frattura. Ho chiamato te perché tu sei a tutti gli effetti Nico Fredi e te la sei cavata la grande nel risolvere il mistero del disco di Ossidiana. Devi aiutarmi nell'interesse tuo e di tutti. Costanzo Gravitiello è fuggito via dall'isola. Prima di tutto cerca di trovarlo. Potrebbe avere informazioni importanti. È probabile che si sia rintanato a Napoli. Ti tengo aggiornato. Madonna, le fratture spazio-temporali, il Big Bang, Napoli, tutto in un unico discorso. È così fantastico. Ma il disco di Ossidiana che viene citato ci fa probabilmente capire che c'è qualche riferimento ai capitoli precedenti. Ma di questo ne parleremo magari dopo. Ci troviamo davanti a un frigorifero che in realtà è un teletrasporto che si attiva con la card del teletrasporto che ci porterà a Napoli, al Parco Virgiliano. E andiamo a Napoli, va! Il Parco, oltre ad avere la classica musica da visual novel, quella dei momenti in cui stai chiarendo il malinteso con la ragazza della Ruth, ha un problema di fondo. Gli spostamenti da un posto all'altro non sono simbolici come spesso accade nelle avventure grafiche. Devi andare letteralmente da un posto all'altro. Cioè, questi hanno praticamente usato la tecnica del fai cinque passi avanti, scatta una foto avanti, scatta una foto dietro. Ammiro la perseveranza, ma vi assicuro che questo sistema diverrà infernale dopo neanche 20 minuti, anche perché sarà difficile capire la fissionemia dei luoghi e soprattutto, vedendo gli stessi posti da due o più angolazioni diverse, ci farà confondere in una maniera atroce a meno che i posti non li conosciamo realmente. Anche perché abbiamo un'altra cosa brutta. Siccome chi ha prodotto il gioco voleva evidentemente mostrare i luoghi dove si svolge appunto il titolo, molti tratti e vie non sono utili ai fini della trama, ma servono solo a farti girare per le varie ambientazioni. In poche parole, è uno street view molto più ossessivo e turistico, quindi girando per questi luoghi immensi non sapremo mai se una via, pure singola magari senza troppe scelte, ci porta lungo lo svolgimento del gioco o è semplicemente un posto panoramico. Camminando, camminando, camminando ci arriva una seconda telefonata dove veniamo a scoprire una cosa molto importante. La macchina del tempo somigliava ad un tornio idraulico arrugginato. La signora delle pulizie l'ha trovata e l'ha gettata nella spazzatura. Poi è stata triturata con le altre indizie. Oh, da che mondo è mondo c'è sempre una signora che trova la roba tua e la butta. Continuando a girare e girare, dopo mezz'ora raggiungo un'area diversa dove finalmente troviamo qualcuno. E qui faccio uno degli incontri più belli ed emozionanti di tutto il gioco. Preparatevi. Siamo culturi della musica country e ci piace tanto il blues. Abbiamo composto alcuni brani in questi stili. Siamo fermamente intenzionati a fare musicisti di professione. È una carriera difficile, ma ci vogliamo provare. Ha! Ti interessa il catalogo delle invenzioni del professor Gravitillo? Prendilo pure. Ne abbiamo un altro a casa. Penso non ci sia davvero bisogno di aggiungere niente. Anzi, se tornate indietro nel video, più vedete questo dialogo e più vi sentirete in imbarazzo. Comunque, vediamo cosa c'è in questo catalogo del professor Gravitiello. Catalogo generale del professor Costanzo Gravitiello. Nuova edizione. Cupod. Apparecchio mobile per il teletrasporto quantistico. Sfiorando la cometa, appaiono le località disponibili. Selezionata la destinazione, compare il gatto di Schrodingen, simbolo della meccanica quantistica alla base del teletrasporto, e l'utente viene immediatamente trasportato sul posto. Il cupod fu dato in dotazione ai sudditi del regno di Capri in tempo di guerra per sfuggire rapidamente al nemico. Oggi viene dato in prestito dalle autorità solo ai turisti per agevolare i loro spostamenti nelle località turistiche della Campania. Va bene. Per il resto, è tutta roba easy. Abbiamo la barriera tipo Stargate di prima, invalicabile. Il teletrasporto che riesce a capire dove volete andare, se però siete indecisi vi porta dove vuole lui. Il distributore automatico che, talvolta dei funzionamenti anomali ma non disonesti, dei Google Glass interdimensionali e dei libri quiz con royalties per la cessione della licenza del 2% sul prezzo di copertina del libro. Continuando a girare per il parco, affacciata sul mare, troviamo una dolce donzella. Avviciniamoci in maniera furtiva, come solo noi sappiamo fare, ed ascoltiamo le dolci parole di quel che sembra, già di spalle, una bellissima donna. Non si preoccupi, non ho intenzione di gettarmi giù nel baratro. È vero, sembro un po' depressa. Forse lo sono davvero. Sono perdutamente innamorata di un uomo che non riesco a ritrovare. È una lunga storia, le interessa? Allora gliela racconto. Sorella cara, e dico sì che ogni persona che legge i dialoghi in questo gioco è veramente impacciata, anche perché i dialoghi fanno veramente schifo. Però, porca miseria, pure tu mettici un pochino di animo nella recitazione, porca miseria. Però, detto questo, vi suggerisco di fare molta attenzione alla storia che ci sta per raccontare. Mi trovo a Marina Piccola, a Capri, una sera d'estate. Sul balcone dell'hotel sorseggio un buon vino. L'aria è calma. Da lontano si sente un canto misterioso. La vacanza sta per finire. Parto domani per New York. Torno in camera ma non ho sonno. Ho voglia di fare qualcosa di eccitante. Perché non una nuotata al chiar di luna? Esco. E arrivo in spiaggia. Nessuna traccia dell'origine del canto. Il rumore del mare mi invita nell'acqua. Il riflesso della luna crea un sentiero fino ai piedi bagnati dalle onde. Guardo dietro di me. Non c'è nessuno. Mi tolgo i sandali e i vestiti. La luna è lucente. C'è uno scoglio non lontano. Nuoterò fin lì. Mi getto in acqua e nuoto verso lo scoglio. Strano. Invece di avvicinarsi lo scoglio mi sembra sempre più lontano. Dietro di me le luci della costa. Nuoto ancora per un po' ma lo scoglio sembra sempre più lontano. Ho paura, voglio tornare indietro, ma mi blocca un crampo. Non riesco più a nuotare e comincio ad affondare. Sempre di più. Con uno sforzo mi riporto a galla. Niente, non ce la faccio. Affondo di nuovo. Vedo con terrore le bolle della mia aria che salgono in superficie. Poi da lontano compare una sagoma. Uno squalo. No, un sub che viene in mio aiuto. I nostri sguardi si incrociano. Sento un grosso corpo sulla destra che mi sorregge. Anche a sinistra qualcosa mi affianca e mi spinge in alto. Finalmente in superficie. Posso respirare. Ecco chi mi ha spinto in alto. Due delfini. Il sub si toglie la maschera e dà ordini ai delfini con un fischietto. Gli devo la vita. No, vabbè ragazzi. Come ho fatto a perdermi questo gioco fino ad oggi? I due delfini mi trasportano verso terra. Dietro di me l'uomo è in piedi sullo scoglio. Ormai sono a riva e i delfini mi lasciano. Giungo stremata sulla spiaggia. Lo scoglio è deserto. L'uomo e i delfini sono spariti. Inciampo in una rete da pesca dove si è impigliato un bracciale. Al centro, incastonato tra le gemme, c'è un grosso rubino. Improvvisamente il rubino brilla, illuminato da un raggio. Indosso il bracciale. Mi sta molto bene al polso. Recupero i vestiti. E mi incammino verso l'albergo. Che avventura! Chi sarà mai l'uomo dei delfini? E che poteri magici ha il bracciale? Torno finalmente in camera. Mi svesto dei panni ancora bagnati e vado di corsa a letto. Sogno l'uomo dei delfini. Il bracciale mi porterà a lui. Ma come? Il giorno dopo parto per New York. Ve la concludo io la storia perché altrimenti diventa troppo lunga e i livelli di cringe hanno già superato la soglia di sicurezza massima. La ragazza promette di darci il bracciale magico in cambio di informazioni riguardanti l'uomo dei delfini che spera di trovare guardando il mare di Capri ogni giorno. Molto romantico, fiabesco, ma pur sempre da matti. Due cose mi hanno colpito particolarmente di questa animazione. Oltre al sub che spunta tra i delfini ovviamente. Il French della ragazza che è tremendamente ipnotico nelle sequenze. E soprattutto il suo incubo che penso me lo sognerò stanotte. Sogno l'uomo dei delfini. Il bracciale mi porterà a lui. Lasciamo lì la ragazza con i migliori capelli che potevano venire immortalati e torniamo al teletrasporto. Tolto il siparietto da jumpscare quando compare la macchinetta, dove li avete già sentiti questi suoni? La macchinetta ai suoni di Space Cadet di Windows 95. Prendiamo il teletrasporto, che ancora una volta deciderà lui dove portarci, in questo caso a Castel dell'Ovo, e andiamo alla ricerca della verità. Ma quando mettiamo piede in città, veniamo subito scippati. Ehi, Nick! Ti stai divertendo, eh? Ma sono le stesse voci dei ragazzi di prima. E qui ti rimane il dubbio se i doppiatori sono sempre gli stessi, oppure sono effettivamente i due chitarristi della costiera. Boh, sta di fatto che ci avranno rubato telefono e soldi, e quindi non riceveremo più istruzioni sul da farsi. Dobbiamo fare tutto da soli. Ma tutta sta gente che sa come mi chiamo? Come fanno praticamente a sapere tutti quanti che sono in missione e cosa devo fare nello specifico? Il mistero di Pulcinella, per davvero, è il caso di dirlo, dato che siamo a Napoli. Arrivati al castello, troviamo la donna che ci ha organizzato l'agguato con i due motociclisti. Questa donna, di cui per tutto il gioco non mi ricorderò il nome, si fa identificare subito. Devi sapere che qualche anno fa ho divorziato del re Caprillo V, che non mi ha mai pagato gli alimenti. In maniera molto nostrana, la donna ci fa capire che non dovremo andare avanti con la nostra missione, perché il re Caprillo, che non ha mai pagato gli alimenti, è anch'esso stato sostituito da una persona dell'universo 3. E questo tipo è una persona buona e soprattutto le paga gli alimenti, quindi a lei va benissimo. Ci sconsiglierà di andare avanti e dopo un minaccione se ne va. Lentamente. Ah ah, nel tuo interesse. Non ti mischiare. Scusami, ora ho cose più importanti da fare. Quel che è più odiato di questo gioco è che prima di farti abbandonare i posti che man mano visiteremo, che sono davvero tanti, dovremo riuscire a completare degli indovinelli presenti nel gioco. Primo che capita è riuscire a riconoscere tutti i luoghi visibili dal Castel dell'Ovo e rimanere lì bloccati fino a quando non avremo assegnato ad ognuno il nome corretto. Essendo stato a Napoli molte volte, alcuni posti come Mergellino, l'Annunziatella, la Chiesa della Concezione me li ricordavo, ma tutti gli altri? Eh, devi andare in giro per tutti i luoghi labirintici del Castello, consultare le varie mappe e poi cercare di dare risposte giuste. Anche se poi ho scoperto che in realtà basta vedere i numeri che compaiono sotto e man mano che il valore sale, vuol dire che stiamo dando le risposte giuste. Quindi vai di brute force sui nomi e go. Prima di abbandonare Castel dell'Ovo, dobbiamo risolvere ancora un minigioco. Per rimanere in tema a settimana enigmistica, trova le 10 differenze. Alcune palesi, altre invece, sono davvero moleste da trovare. E qui, per le ultime due differenze, sono stato forse 20 minuti buoni. Superato il quiz, otterremo 10 caprini, che serviranno per fare il nostro biglietto per il teletrasporto. Il frigorifero ci obbligherà a tornare a casa per recuperare altri soldi per pagare i nostri viaggi e poi ci dirigeremo da uno dei personaggi chiave di questo gioco, che ci è stata segnalata in una delle prime nostre telefonate. La signorina Mariolina Angelone. Preparatevi che se avete addosso le cuffie, la musica del suo studio sarà veramente pastillosa. Questa arzilla signora si definisce ideatrice della Log Heart e casa sua è letteralmente un museo con le sue opere. E cominceremo a fare un tour guidato che... non potremmo saltare. Questa che ha davanti, per esempio, si chiama Vesuvius and Neapolitan Tice. Questa come si chiama? Qui abbiamo Seven Sisters and Seven Brothers. Quest'opera è un po' strana. Insomma, la signora Mariolina diverrà un personaggio principale perché ha alcune gemme che serviranno per far funzionare la macchina del tempo per riparare la frattura spazio-temporale che ha combinato tutto il casino dell'Universo 1 e Universo 3. In che cosa consiste il piano malefico di Mariolina? Dobbiamo andare in giro intorno a Napoli per i vari borghi e paesi alla ricerca delle gallerie d'arte dei suoi amici in maniera tale da chiedere a loro i quiz che lei gli ha mandato in maniera tale da risolverli dato che loro non ce la fanno e riportarli a Mariolina in maniera tale che ci possa dare le gemme. Si va a Procida, la nostra prima meta, ed anche qui ci perderemo tra le stradine con centinaia di posti che non c'entrano nulla con la missione principale. Dopo dieci minuti arriviamo alla prima galleria d'arte. Indovinate cosa succede? Buongiorno, come va? Le interessano le nostre opere? Abbiamo qui un bronzo di Marisa Lambertini. Questo è un quadro di Mario Sironi. Questo invece è un quadro di Guttuso, datato 1970, ambientato nel caffè greco. Altro tour di altre opere della galleria ed infine ci viene consegnato il primo libro quiz di Mariolina che dovremo completare. Ecco, prenda pure. Rispondere alle domande del libretto stimola la discussione sulle opere log art. Ok, sono presenti tutti i lavori che abbiamo visto a casa di Mariolina dove per ognuno abbiamo un quiz di risposta multipla al quale dovremo rispondere. Su questo volumetto ci ho perso almeno mezz'ora. Ho provato ogni genere di combinazione di risposte possibili ma niente. Non ottengo nulla. In genere ti compare una freccetta blu verso il basso per dire che è tutto ok seguito da un applauso. Non compare nulla. Non compare neanche la macchinetta dei biglietti. Quindi devo fare per forza qualcosa. Mi sono incazzato in una maniera che non avete manco idea. Quindi decido di fare un giro per Procida ed effettivamente per le strade. Qualcuno è comparso. Avvicinati. Ti ho visto entrare nel negozio d'arte moderna Nabis. So che ti interessano i cristalli che si illuminano alla luce. Come faccio a saperlo? Me l'ha detto mio zio. È lui che mi ha mandata qui. Oh, ma la ragazza è anche molto carina. Questo è il primo e forse l'unico personaggio che sono stato ad ascoltare con piacere dall'inizio alla fine. La tipa, di nome Adele, ci spiega che gli abitanti di Procida sono spariti perché hanno paura del casino dei varchi spazio-temporali che sta succedendo. E con la sua... Caffettiera a teletrasporto... Sì, caffettiera a teletrasporto... Andiamo dall'altra parte di Procida. Adele, il nipote del professore delle telefonate a inizio gioco, ci dice che il varco spazio-temporale sta provocando molti problemi in tutto il mondo. Tipo il Golden Gate che compare e scompare al posto del ponte di Procida. Ma allo stesso tempo assisteremo a scenari con l'acqua animata unita a foto, unite a fotomontaggi, che creeranno delle cartoline a effetto stile quarantenne sui social che sono davvero uno spettacolo. I dialoghi dureranno qualcosa come venti minuti, dove gireremo per l'isola e ci verrà detta sempre la stessa cosa. E se domani fosse scambiata di posto l'intera isola? E se lo scambio divenisse irreversibile? Tra le tante chiacchiere, la ragazza ci ricorda che casualmente in tasca ha uno dei cristalli che ci serviranno per la frattura, e ce lo dà. Inoltre ci dice che a Poggerola potremmo trovare un altro cristallo, ma ci servirà molta fortuna, e quindi ci fornirà anche un portafortuna adatto per droppare il diamante dalla cascata nel bosco. E alla fine, prima di salutarci, ci dice due cose molto importanti. Sai, mio zio ha molta fiducia in te. Ah, vuoi sapere chi è mio zio? È il creatore di questo videogioco. Madonna ragazzi, giastadele! Dopo che ci avrà teletrasportati nella zona abitata di Procida, andiamo subito a Poggerola, dove comincerà una delle fasi più stressanti dell'intero gioco. Il Bosco delle Fate. Questo penso sia il percorso più lungo che mi sia fatto da quando è cominciato il gioco, e ve lo sto accelerando un attimo per darvi un'idea di quanto dovremmo cliccare per muoverci sempre più avanti. È davvero snervante. Fino a quando non arriveremo a un cartello scritto con Paint Attenzione, bosco infestato da elfi, lepricauni e streghe. Tornate indietro. Il percorso prosegue ancora per molto. Fino a quando? Chi è questo straniero? Perché si aggira nel Bosco Incantato? Diamogli una spintarella quando passa vicino al dirupo. Aspetta, non sappiamo cosa è venuto a fare qui. Questo bosco mi annoia. Ora che arriva uno straniero, ci sono tanti alberi, impicchiamolo. Informiamoci invece. Forse su internet troviamo qualcosa. Sì, è decisamente inquietante, ma abbiamo almeno altri 100 fotogrammi davanti a noi da camminare. Ogni tanto ascolteremo le voci di questi personaggi che un po' vogliono ucciderci, un po' hanno svolto indagini su di noi sapendo già tutto, un po' ci diranno la cosa più inquietante di tutte. Lo straniero è alla ricerca della cascata. Spera di capitare nel momento in cui l'acqua si trasforma in cristalli. Ha con sé un portafortuna. Dove credi di andare con un solo portafortuna? Mi fa solo ridere. Infatti, se non ne ha sette, non vado a nessuna parte. No. No! No, ti prego no! Non voglio cercare gli oggetti nascosti, no! Ebbene sì, comincio a prepararmi al peggio, ma continuo il mio viaggio verso l'ignoto. Salve, straniero. Madonna santissima incoronata! Abbiamo deciso di aiutarti. Se vuoi che la cascata produca un cristallo, hai bisogno di sette portafortuni. Ma no, te ne bastano tre! Sali in cima agli alberi più alti. Li trovi lì. Comunque, tu la prima, è un problema se ti porto con me? I modelli scelti per questa parte sono stonati in maniera incredibile con l'ambiente che stiamo vivendo. E purtroppo, sì, dobbiamo trovare sette amuleti. E sì, dobbiamo tornare indietro per tutta la strada alla ricerca di sette oggetti disseminati nel bosco. Per questa scena ho dovuto prepararmi psicologicamente prima di affrontarla, e con circa 300 foto all'indietro, delle quali dovremmo fare attenzione a tutto quel che succede. Arriva sempre quel momento in giochi brutti dove le parti più lunghe, di maggiore sofferenza, ve le devo sintetizzare perché sono veramente atroci e snervanti. Rifaccio il percorso al contrario fino a tornare al molo di Poggerola. Riprendo a farmi il percorso dentro il bosco. Comincio a trovare i primi amuleti disseminati per il bosco delle fate. Nel frattempo, vicino ad un dirupo, trovo una signora che sta lì a non fare un cazzo, ma per qualche strano motivo sa tutto, come sempre, di noi e di quel che dobbiamo fare. Ci consegno informazioni sull'uomo dei delfini, fornendoci nome, cognome, foto e indirizzo. Probabilmente la signora è una stalker. In una catapecchia del bosco troviamo la hall dell'hotel Astoria, ma noi ce ne fregheremo altamente ed andremo alla ricerca del resto degli oggetti che mi mettono ansia. Faccio avanti, dietro, avanti, dietro, avanti, dietro almeno quattro volte e trovo tutti i portafortuna. Mi decido dunque di andare vicino alla cascata dove sistemerò tutti gli amuleti e dunque dropperò la cacchio di gemma dell'acqua. Ma nonostante ciò, gli elfi vorranno ancora uccidermi, bene fregoltamente di loro, tanto dal bosco non possono uscire, e quindi decido di tornare da Mariolina consegnando i risultati del test delle sue opere d'arte. Ve le ricordate? Quello dove sono stato mezz'ora senza risolvere niente. Bene, farà montare il nervoso accumulato fino ad adesso a dei livelli mai raggiunti dalla pazienza umana. Fantastico! È stato bravo! Le faccio una confidenza, tutte le risposte sono buone. Sa, è questione di punti di vista, in mancanza di una soluzione definita, i quesiti, secondo la logica della Logart, devono ritenersi irrisolti. Da questo momento in poi diverremo in tutti i sensi gli schiavi di Mariolina, la donna che ha più gemme di tutti. Il nostro obiettivo è trovare i suoi rompicapo e quiz per tutti i luoghi parternopei, risolverli, portarli alla donna e farci dare man mano i cristalli che serviranno. Non si sa ancora come a ripristinare gli universi nella loro forma originaria. È inutile farvi vedere passo per passo che cosa succede, le bizzarre persone con il quale avremo a che fare, gli ambienti labirintici infiniti nei quali ci perderemo, perché, come vi dissi all'inizio, belli gli scorci, la costa campana è una delle più belle che abbiamo in Italia, lo riconosco, ma aggiungere posti a caso per il puro gusto di visitarli senza sapere effettivamente se si possa celare qualcosa o meno innervosisce parecchio. Ci sono alcune zone che per raggiungerle serviranno 20 o 30 sequenze e che magari poi portano semplicemente ad una foto panoramica dalle quali dovremo poi rifarci sempre 20 o 30 sequenze per tornare sul nostro percorso originario. Dopo un po' questa cosa comincia a demolirti. Capisco che molto probabilmente chi l'ha fatto ha tentato di replicare in maniera casereccia, mist e giochi simili, ma penso abbia esagerato parecchio, ma parecchio proprio. Poi 60.000 casini per trovare il maledetto ESA, il gioco di Mariolina da risolvere, che mi ha fatto venire la disperazione non appena ho visto che si trattava e come si doveva risolvere, ma non appena ho letto nelle istruzioni che con la bandierina bianca potevamo avere la soluzione istantanea con tutte le emoticon da quarantenni, non ci ho pensato due volte. Sono andato avanti di bandierina bianca. E così ho fatto per tutti i giochi successivi. Dopo tanti gira e rigira tra le vie di Procida, Pogerole e Napoli, finalmente siamo a Capri. E potete facilmente immaginare quante cacchio di foto possano aver fatto nel luogo che porta il titolo del gioco. Rimanere intrappolati a Capri è una cosa quasi scontata e vi giuro che tra tipo 30 percorsi che possiamo affrontare che porteranno a panoramiche e scorci vari, soltanto uno sarà quello giusto e sarà anche bello nascosto. Ma finalmente faremo conoscenza, dopo un bel viaggio, del Branduardi locale. Salve, qual buon vento ti porta a Capri? Questo simpatico signore potrà produrre la gemma azzurra, utile per risolvere il nostro caso. Il polistrumentista, uno dei pochi personaggi senza nome, ci spiega che con la fusione degli universi ha ottenuto poteri magici attivabili con la sua musica, e quindi, cosa dovremmo fare per far comparire la gemma? Ed è tutto. Ascoltare la sua musica. Siamo ben capiti. Questa sequenza musicale, di quel che sembra essere un ottimo polistrumentista, ovviamente viene rovinata dal trash che contraddistingue molte scene del gioco. Fossi in loro avrei evitato, quantomeno per rispetto dell'artista. Questa scena non schippabile dura ben otto minuti della nostra vita. Ottimo musicista dal talento indiscusso, ma veramente, otto minuti sono troppi. Troppe scene che non c'entrano niente con la storia. Oh, grazie. Beh, si è fatto tardi. Grazie per il cristallo, ci vediamo presto e... Prendiamo il cacchio di diamante e togliamo il disturbo. Prima di tornare da Mariorina con il maledettissimo Esa concluso, passiamo dalla ragazza alla ricerca dell'uomo con i delfini, dandole la busta che ci aveva consegnato la misteriosa signora nei boschi di Poggerola. Sprizzerà gioia da tutti i pori. Fantastico, nome, cognome, indirizzo e cellulare. Sa che lei è veramente forte. Però almeno siamo riusciti a recuperare il bracciale che nel frattempo è diventato piccolo praticamente come un anello. Torniamo alla casa museo di Mariolina, recuperiamo finalmente il diamante verde anche perché più passa il tempo in questo gioco e più la mia voglia di vivere diminuisce. La prossima tappa è Positano e subito dopo Piazza Diaz a Napoli. E vi giuro, in questo punto stavo per abbandonare il gioco a metà. Ma andiamo con molta calma. La parte di Positano ve la risparmio molto volentieri perché dopo che la mia tempra è stata messa a dura prova da tutto quel che avete visto finora succede ancora una volta una delle più grandi tragedie di questo gioco. Un museo. Scultura in bronzo di Gershinto Bosco questo è un dipinto meraviglioso e questa è un'altra opera meravigliosa. No vabbè ragazzi io veramente non le sto reggendo più. A Napoli Piazza Diaz e Villa Comunale avremo il momento più arduo una nuova ricerca d'oggetti. Questa volta sono solo due una carta bruciacchiata ed una stuoia entrambi servono per il rituale finale per risolvere tutto il casino tra gli universi. Durante le nostre ricerche passeremo anche dall'acquario e a differenza dei musei sarà molto più rilassante e gradevole da seguire anche se sarà infinitamente lungo come tour. Qui ci sono le castagnole qui abbiamo i calamari qui abbiamo il polpona qui ci sono i saraghi ci sono gli scorfani Comunque a parte gli scherzi quando ho ricapito da Napoli quasi quasi un giro all'acquario lo vorrei fare mi è sembrato molto interessante e ne ignoravo da fuck abitano dalle parti delle isolotte ligalli sono venuti a passare il weekend qui nell'acquario e quando tutto sembrava andare liscio tranquillo tra le varie specie marine e tutto il tour guidato troviamo lui mi scusi è per un controllo posso vedere il biglietto d'ingresso? non ce l'ha eh eh e mo è entrato senza biglietto in questo caso deve pagare una multa di 125 caprini non hai 125 caprini dicono tutti così mi dispiace ma sono costretto a chiamare i carabinieri è come se lei entrasse in una casa con una porta aperta non è sua entra fa il comodo suo le pare bello? madonna santa è pure la ramanzina ecco facciamo così le do un libro quiz con le foto e i nomi degli animali di questo acquario metta i nomi al posto giusto sotto le foto se risolve il quiz la faccia uscire ragazzi il pesce non lo mangio perché non mi piace però io sono di Bari e non puoi fregarmi così la castagnola il polpo la cernia il gattuccio lo scorfano il calamaro la corvina nel giro di un minuto riesco a risolvere il tutto ed uscire dal museo in giro ad una bancarella di antiquariato troviamo la carta bruciacchiata per il rituale la stuoia invece sapremo solo che si trova nascosta nella cassa armonica della villa eccola qua la ricerca della stuoia nella cassa armonica sarà uno di quei momenti di giochi brutti che non scorderò mai per tutta la vita la cassa armonica è composta di circa 50 fotografie dalle più svariate posizioni possiamo vedere ogni angolazione da ben due punti di vista frontali o di spalle possiamo vedere le scale l'interno il laterale l'esterno da vicino da lontano rivedendo ora le mie registrazioni ho scoperto che questo punto è quello a cui ho dedicato più tempo intorno a quella struttura ho passato ben 124 minuti della mia vita cercando ricercando facendomi venire dubbi sul fatto che questa sia veramente la cassa armonica della villa comunale mi ha fatto cercare in maniera paranoica ne dintorno alla ricerca di posti simili sono andato a visitare ogni genere di luogo da tutte le prospettive ho passato il mouse per ogni centimetro di ogni immagine ho immaginato che magari il gioco potesse essersi bloccato che magari il posto dove cliccare non fosse contrassegnato che in realtà stavo cercando nel posto sbagliato che forse avrei dovuto ricominciare il gioco dal principio che in realtà si trattava di un tranello come quello del quiz sulla log art la mia mente pervasa dalla frustrazione in quell'ora del gioco ha pensato di tutto pensavo che magari fosse al centro della cassa e basta dato che l'unico posto dove potresti nascondere un oggetto stavo impazzendo ma ad un certo punto all'improvviso un Phoenix Wright flashback think outside the box 124 minuti dopo questa ricerca nonostante sapessi che mancava poco per il finale me ne sono andato a dormire e ho continuato il giorno dopo dopo questo punto infernale sono andati in modalità speedrun anche perché il gioco non cambia moltissimo vai in un posto cerca la persona interessata fatti dare il maledetto quiz risolvi il maledetto quiz riportala a Mariolina fatti dare i diamanti ma questa Mariolina mi chiedo io non ha un cuore non capisce che c'è un problema globale da risolvere e dobbiamo muoverci invece a stare a risolvere i suoi giochi come quando nella sequenza in cui devi entrare nella facoltà di matematica devi risolvere un problema di matematica perché altrimenti non ci puoi entrare te lo devi meritare il cringe scorre potente tra le foto dei misteri di Capri 2 ci avviamo verso la parte finale del gioco dove ci mancano giusto alcuni elementi per compiere il rituale vengono tirati in mezzo la teoria del caos l'effetto farfalla tutte cose che gli autori del gioco hanno probabilmente sentito dire nei film e fa molto figo metterli nel gioco dato che per ricucire la frattura sarà necessario far comparire una farfalla al centro del luogo del rituale per far svanire tutti gli effetti negativi provocati dal professor Gavitiello cattivo Gravitiello tra i vari macelli che il varco spazio-temporale ha provocato c'è anche lo spostamento di personaggi storici per le varie linee temporali troviamo ad esempio l'ammiraglio Nelson che si trova nel nostro universo ed è seduto in un ristorante che ci rivela chi sia il vero grande nemico di tutta questa faccenda che stiamo affrontando Napoleone ha assoldato un killer professionista per farti fuori prima che tu riesca a portare a termine la tua missione cioè ma di cosa stiamo parlando? comunque no devo ancora registrare Napoleon per il secondo canale dopo che abbiamo scoperto la mente diabolica dietro il piano per fermarci ossia Napoleone insieme alla signora che voleva gli alimenti dal re di Capri l'ammiraglio Nelson dice che per vincere la battaglia contro questa gente abbiamo bisogno di alcune armi messe a punto dal professor Gravitiello una è quella che ci aiuterà a compiere il rito l'altra invece è in grado di contrastare le armi da fuoco vabbè ne parleremo più avanti nel frattempo avviamoci verso la zona finale il museo del sottosuolo a Napoli quest'ultima area però mi ha divertito molto giocarla perché andai a visitarla con una gita alle medie insieme a Napoli sotterranea c'è da dire che nonostante i movimenti come sempre fastidiosissimi per le aree ed il flash delle foto che rovina praticamente l'atmosfera almeno in quest'ultima parte sono riusciti a creare un minimo d'ambiente inquietante e misterioso come sempre un maledetto labirinto e con una mappa che in realtà non ti fa comunque capire un cazzo di dove stiamo andando a ficcarci e in mezzo a tutta quest'ansia dei cunicoli a cercare di capire che cacchio dobbiamo fare come sempre arriva un personaggio che spezza tutta la suspense buongiorno qui siamo nel museo del sottosuolo della città di Napoli mostriamo ai visitatori cave e cisterne di epoca greco-romana poi trasformate il ricovero antiaereo nel corso della seconda guerra mondiale tramite questo ragazzo scopriremo che dobbiamo trovare la Sibilla Cumana che dovrebbe nascondersi sotto il museo non chiedetemi il perché è spuntata così all'improvviso in mezzo ai dialoghi ah ha urgenza di incontrarla eh a Napoli funzionano molto le raccomandazioni lei ne ha una? le uniche due persone che troveremo nei sotterrani saranno una ragazza ciao Nick anche per lei sarà la solita cosa che noi non la conosciamo e lei ci conosce benissimo ed anche un ragazzo dietro al bancone dell'esposizione dei vini salve posso offrirle da bere? oggi è una giornata promozionale ma è lo stesso ragazzo di sopra che per camuffarsi si è messo la felpa con il cappuccio vabbè gli chiediamo della Sibilla e scopriamo che probabilmente riusciremo ad attirarla offrendole del buon vino la Sibilla Cumana è una divinità mitologica sia greca che romana è una delle sacerdotesse di Apollo uno penserà va bene per richiamarla per fare un summoning diciamo così dovrai fare qualche genere di rituale dovrai fare qualcosa di strano qualcosa di mistico niente di tutto ciò Sibilla? ciao come stai oggi? a secco? senti qui c'è un visitatore che vorrebbe incontrarti ah capisco eh sì certo certo ok glielo dico ha detto che arriva solo se le facciamo trovare una bottiglia di Glen Fiddich sul palco della sala grande la promozione di oggi è solo per un bicchierino la bottiglia di puro malto costa 60 caprini che le dico? ha detto che va bene a tra poco allora fanno 60 caprini cioè hai capito l'associazione a delinquere formata dal ragazzo del museo della Sibilla e c'è anche la scena dopo dove lui sta con la mano tesa a chiedere i soldi cioè io voglio conoscere veramente a tutti i costi chi c'è dietro quest'opera fantastica ok compriamo il vino e andiamola a posizionare sull'altare nei meandri della grotta e vi garantisco l'incontro con la Sibilla non è proprio come me lo sarei aspettato che c'è stanno svastiche gli occhiali, esoteriche sotto interdimensionali. Io da oggi non dormo più. È una delle cose più inquietanti che abbia mai visto. Il gioco consiste nell'ordinare le frasi che la Sibilla pronuncerà per cercare di capire dove si trovano gli accessori mancanti per il rituale, compresi i famosi Google Glass, tramite i quali il professor Gravitiello, quello buono, potrà comunicare con noi. Quindi reperiamo tutto quel che serve all'interno delle varie parti della grotta e siamo pronti per cominciare. Dobbiamo sistemare insieme tutti i pezzi. Quindi le sei sfere, scusate, le sei gemme, la carta bruciacchiata, la stuoia, il bracciale ed il laser per innescare tutto il marchigegno. Manca poco per completare il cerchio. Devo dirti una cosa. Sei stato molto abile ad arrivare fin qui. Ti sei messo perfino contro Napoleone. E qui resterai. O al massimo ti sposterai da un sottosuolo all'altro. La battuta del sottosuolo mi è piaciuta. Accidenti! Che diavoleria è mai questa? Maledetto! Come hai fatto? Aia! Scotta! Non credere di scansartela. Vado a prendere un altro bazooka. Tanto da qui non potrai mai uscire. I miei colleghi sorvegliano la porta a vista. Ok, finalmente possiamo concludere il rituale per ricucire tutto il casino provocato. E ci avviamo al finale. Alla prossima! Grazie a tutti. Il killer non fece in tempo a prendere un altro bazooka. Dopo una causa durata a molti anni, Mata Aprik riuscì a farsi dare gli alimenti dal re Caprillo V. I due chitarristi riuscirono ad incidere un CD, ma vendettero poche copie. Madonna, tristissimo! Nelson morì nel difendere Capri dall'assalto delle truppe di Napoleone nell'assedio del 1808. Non bene neanche Nelson. Mariolina espose al MoMA di New York le sue opere sui cristalli di luce. Bracelets of Light divenne un bestseller. Diana sposò Arion come da romanzo. Diana è quella dei delfini. Al Martino, il polistrumentista, divenne un musicista di fama internazionale in tutti gli universi. Il Duomo di Amalfi riprese il suo posto in piazza così come il Golden Gate San Francisco. Fine. Non una sequenza, uno straccio di foto extra aggiuntiva, un qualcosa per ricompensare il giocatore. Nulla. Un fine che tra l'altro non ti porterà neanche al menu principale. Devi uscire tu direttamente. Cioè, opzioni, esci. Fine. Grazie. Capriconnection è un titolo che, nonostante il suo essere molto molto trash, concepito male ed estremamente imbarazzante sotto moltissimi punti di vista, mi ha comunque fatto molta tenerezza per i più svariati motivi. Il primo è che il gioco sia praticamente la proloco camuffata a videogioco e che sia palesemente stato prodotto per mostrare le bellezze della campania ed anche le realtà locali, nonostante per queste ultime venga fatto in maniera molto goffa ed esasperata. La costiera amalfitana, il lungomare napoletano, le tante isole di solette come Capri, Procida, sono tesori della nostra penisola e luoghi davvero mozzafiato che mi è capitato più volte di visitare e che molto spesso vengono poco valorizzate e che all'esterno vengono messi in secondo piano a favore dei meme su Napoli e la camorra. Ho provato ad informarmi un pochino online e ho trovato il sito della SG Software, che sono le iniziali delle due menti dietro il gioco, che a quanto pare fa parte di una trilogia di titoli che sostiene di essere venduta praticamente in tutto il mondo. I giochi vanno a circa 20 euro l'uno nuovi e ci sono addirittura 100 copie numerate ed autografate vendute a ben 50 euro. Oltre a quello ho trovato anche un Kickstarter con obiettivo 30.000 dollari dove sono stati raggiunti scarsi 3.000, che comunque sono anche parecchi per il tipo di prodotto proposto. Non metto in dubbio che farsi tutte quelle foto sia stato qualcosa di stressante, ma sinceramente un gioco che non va oltre i 1024x768, che è una risoluzione a 4 terzi e fatto in qualità così bassa, offre una sfida inesistente e soprattutto è veramente impresentabile, 20 euro mi sembrano assurdi. E sapere che un titolo così è fatto nel 2014 e non nel 96, la cosa mi fa spavento. Per quanto riguarda il gioco, invece... No! Questa volta non lo distruggerò. Ho progetti ben più grandi per lui.